Aspetti chirurgici e funzionali, riabilitative, questo è il tema dell'incontro pubblico svoltosi nella Sala Convegni Pomara di San Michele di Ganzeria, nel corso al quale sono state illustrate le cure pre e post intervento che colpiscono le articolazioni della mano negli adulti, fra cui tunnel carpale, formicolia alla mano e morbo di deputrain. Sono delle patologie molto frequenti che capitano e accadono a tantissime persone. Questa sera siamo qui all'hotel Pomara di San Michele di Ganzeria con l'amico Fabrizio Milazzo per parlare delle patologie della mano, i loro aspetti più che dal punto di vista clinico attuale, anche da un punto di vista artistico, ricercando nelle varie quadri che esamineremo dei segni, dei sintomi o dei segnali che possono aiutarci nell'indicazione di una possibile patologia. Un momento di compronto insomma nel rapporto che intercorre fra medico e paziente, dove questi ultimi hanno avuto anche modo di chiedere chiaramente allo specialista in relazione ai casi e alle tipologie dei trattamenti. Giuseppe Entanullo, medico al reparto di ortopedia dell'ospedale Gravina di Caltagirone, ha chiarito l'importanza della terapia riabilitativa nei pazienti trattati post intervento. La riabilitazione è molto importante perché permette innanzitutto ridurre la possibilità di un trattamento chirurgico e dall'altra parte se il trattamento chirurgico diventa necessario diventa fondamentale per far sì che il risultato di un intervento ottenga il massimo del risultato. Quando i pazienti devono rivolgersi al medico? Quando hanno i primi sintomi, i primi fastidi, i primi disturbi e senz'altro il primo medico da dover contattare è il proprio medico di famiglia e poi lo specialista. E infine a chiarire gli aspetti legati alla riabilitazione e i conseguenti trattamenti è Fabrizio Milazzo, fisioterapista esperto nei trattamenti post operatori e dei traumi articolari. Oggi ci sono moltissime e molteplici terapie per quanto riguarda la riabilitazione della mano. Si parla della tecarterapia, chiaramente che è l'apice del trattamento al laser Hilt, che è un trattamento che serve per ristrutturare e rigenerare i tessuti, i tendini, soprattutto quelli articolari che sono praticamente molteplici e presenti nella mano. Proseguiremo i nostri incontri con le persone con la semplicità delle discussioni sulle patologie e nei prossimi incontri si parlerà di anga, di ginocchio, di caviglia e di schiena. Grazie a tutti.